Nel primo e per il momento unico sabato di applicazione dell'ordinanza regionale sul numero chiuso nei negozi Bassano si è mostrata partecipe e ordinata sia coi clienti che coi gestori. Tutto in regola, la cartellonistica è stata esposta, abbiamo delle file ordinate, le persone sono molto comprensive quindi diciamo che nonostante sia un disagio la situazione sta procedendo con ordine. Quella del cartello col numero massimo di clienti non è una novità assoluta perché è prevista già dal DPCM dello scorso aprile ora la regione ha precisato i criteri per il calcolo. La contingentazione delle persone non era espressamente richiesta ma era una questione di buon senso ed era un invito ora è diventata una normativa ben precisa quindi diciamo che ci adeguiamo. Negozianti, imprenditori e cittadini ora aspettano di capire cosa succederà col nuovo DPCM che sarà in vigore dal 4 dicembre. Nonostante tutte queste misure abbiamo i contagi che continuano a salire. In alcune ragioni invece hanno fatto un passo indietro quindi da rosse sono diventate arancioni quindi è un algoritmo che non riusciamo a prevedere tutto è ad aspettare la data del 3 dicembre per capire cosa ci aspetterà in seguito.